Ce la siamo giocata alla grande, al primo tempo molto bene, ogni azione facevamo gol o potevamo fare gol, è stata una gran bella serata, al secondo tempo invece ci siamo chiusi perché era inevitabile, l'Inter poi ci ha chiuso, fortunatamente non sono riusciti a fare un gol, le proporzioni adesso di questo vantaggio sono buone per guardare al futuro, alla partita di ritorno con un po' più di serenità. Sono contento, tante parate di qualità con questi giocatori che quando te li trovi davanti è sempre difficile, sono contento, grande soddisfazione personale, quindi bella vittoria, bella prestazione, quindi sono veramente soddisfatto, purtroppo ce la possiamo godere per poco perché domenica si rigioca, però abbiamo messo un bel mattoncino verso la finale. Il piacere è sempre bello essere acclamati dai propri tifosi nel bene e nel male, ultimamente sta andando molto bene, anche personalmente sono contento, quindi grazie e speriamo di non deluderli. La domenica perché noi adesso l'unico rischio è di viaggiare a due metri da terra, perché comunque dopo questa prestazione inconsciamente magari un po' di leggerezza ti viene, però saremo un gruppo maturo che sa che ogni partita fa storia a sé, domenica a Bologna avremo anche diversi squalificati, quindi bisognerà essere ancora più attenti e determinati per fare i punti che ci servono per salire qualche posizione di classifica. Ma è un bel periodo, sta andando tutto bene, sono molto contento, molto orgoglioso, quindi speriamo di poter continuare così. Grande partita, a parte tutta la squadra, abbiamo fatto un primo tempo molto bello, secondo tempo abbiamo sofferto un po', anche per l'uomo in meno, però stasera c'è da fare complimenti a tutti. Si danno, si prendono, fa parte del calcio, diciamo che ce ne siamo un po' date, però insomma alla fine è andata bene per noi, quindi sono contento. Abbiamo un buon vantaggio, è chiaro che andare a Milano non è facile, l'Inter sappiamo tutti la squadra cos'è, però abbiamo un buon vantaggio. Un'altra battaglia, un'altra sfida che vogliamo affrontare al meglio per dare seguito a queste partite buone che abbiamo fatto, quindi andremo là per fare la nostra partita. È veramente straordinaria, non solo per aver vinto contro l'Inter, ma soprattutto perché hanno mostrato di essere una grande squadra, con una determinazione senza mai fermarsi, con gol splendidi, dal primo di Cassano che veramente sembrava facile, ma sono tra i gol più difficili da fare, veramente una grande gioia. Andremo a ritorno con la volontà, la voglia di vincere e di poter andare in finale in Coppa Italia. La squadra li ho trovati tutti in buone condizioni, anche se molti hanno subito dei falli durissimi, falli da dietro, però con uno splendido umore. Poi abbiamo avuto un Castellazzi come raramente abbiamo visto e quindi anche lui si è veramente consolidato e quindi possiamo affrontare anche le ultime fasi del campionato con la convinzione di poter fare molto bene. Pazzini anche lui è straordinario, direi è sulla palla al momento giusto e ogni volta che l'ha avuta una palla giusta l'ha sempre messa in rete da quando è con noi, quindi siamo veramente molto soddisfatti di quello che abbiamo fatto a gennaio. Ci meritiamo di mirare al primo trofeo, sperando che sia l'inizio di trofei sempre più importanti.